Allora, Mario Academia ha dei bei momenti, secondo me, a questi bei momenti sono racchiusi tra un sacco di stronzate, ok? Sono delle parti che sono veramente stupide in culo e mi fanno scendere tutta quanta la sospensione dell'incredulità. Mi fanno allontanare dall'essere coinvolto. Esempio, c'è un momento in cui loro battono i protagonisti, battono overhaul e prendono le boccette con dentro la cosa più pericolosa del mondo. Un siero fatto da Eri, che è una bambina con un corno in testa, che è un siero che annulla i poteri dei supereroi, va bene? Praticamente, quindi c'è questa cosa super, super importante, che è questo siero, che loro sono riusciti a riprendere in mano con fatica, morti, distruzioni, i migliori supereroi mossi per questo blitz. Dopodiché, porca puttana, ma vorrei bestemmiare, ma non lo faccio perché sono in live, cosa fanno? Mettono questi sieri, presi, ripeto, con la forza, con il sudore, con la fatica, mettono queste boccette dentro un camioncino salvaguardato da tre poliziotti e un eroe super sfigato che fa cacare alla merda. E ovviamente cosa fanno? I cattivi assaltano il cazzo di camioncino e glielo strappano indietro e rubano questo siero. Ed è una puttanata, ragazzi, è una puttanata cosmica perché, cioè, fino a mezzo secondo prima c'erano tutti quanti i, c'erano tutti quanti gli eroi più forti, la tizia che si trasforma in drago, tutta, tutta sta gente. E poi tutti quanti, vabbè, raga, cisi, bona, andiamo, e mettono questo siero importantissimo dentro un camioncino con tre poliziotti di merda e un eroe che non vedrete mai più nella serie, che non mi ricordo che fa castelli di sabbia, ma che cazzo fa? E niente, ovviamente i cattivi invece vanno lì in sette, gli fanno il culo, lo gancano e prendono indietro il siero. Modo di fare andare la trama in avanti, veramente stupido, nonché, tra l'altro, assolutamente, assolutamente evitabile in mille modi, ragazzi, in mille modi. Potevano fare che Toga, ok, la tipa che si trasforma in altri tizi, si trasformava in un poliziotto e andavano a portare sto siero e poi il poliziotto si ritrasforma in lei, tipo mistica di X-Men, ah ah ah, ve l'ho inculato. Potevano fare ste stronzate, invece no, creano 20 minuti di una stronzata cosmica, terribile, e boh vabbè, niente, ci sono rimasto malissimo. Neverland, Promised Neverland invece con A Star l'ho finito l'anime, non ho letto niente il manga, e invece quello è una bomba, micidiale quello, quello secondo me gli urina nella fronte a My Hero Academia, ma proprio quella calduccia qui tra le pieghe, perché è veramente fatto bene. Quadrato, intelligente, musiche eccezionali, feel, mood incredibilmente opprimente, angosciante, bellissimo, mi piace un sacco. La opening bellissima è The Hoover World, che è un gruppo che io ascolto da tantissimo tempo, perché avevano fatto una vecchissima opening di Bleach, se non ricordo male, quella della saga del Aizen 1, quindi la saga degli Shinigami, insomma, se sono gli Shinigami, no? Insomma, la saga dove Aizen si scopre essere cattivo. Insomma, le ascolto da allora, io avevo la varicella, quindi andavo in terza media, sì, io ho avuto la varicella tardissimo. Spoiler, ragazzi. Allora, spoiler su Bleach non vale. Uno, perché Bleach, cioè, è vecchio. Due, perché è una merda Bleach, quindi rovinarvi Bleach. Anzi, lì era ancora bellino, ma poi finisce lì. Cioè, se non avessi aperto un canale sui Pokémon, l'avrei aperto sugli anime, perché ho guardato veramente tanta roba. E niente, vi dicevo che il buon The Promised Neverland è veramente molto molto bello, quindi ve lo consiglio un sacco, ve lo consiglio davvero, perché è una... È una versione horror di Attack on Titan, perché il mood è quello. Ma io non lo sto leggendo, lo sto solo guardando. Ho letto i primi 100 capitoli, credo di essere più avanti, dell'anime, molto bello e interessante, ma dopo diventa estremamente ripetitivo. Peccato. Però, tanti altri amici mi hanno parlato molto bene. Che cosa ne pensi di Steins Gate? Ragazzi, Steins Gate è bellissimo. Steins Gate è incredibile, di che stiamo parlando, ragazzi? Steins Gate è una madonna. Steins Gate è un'opera stupenda, che però ha un difetto. Inizia lento. Lo so che qualcuno dice, vabbè sì, ma deve avere pazienza. Io sono dell'idea che se un'opera è lenta, è un difetto dell'opera, ok? Quando un'opera è lenta, vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Non deve essere lenta un'opera. Se è lenta, vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Quindi secondo me l'inizio loro l'hanno toppato alla grande, però poi dopo diventa una roba, una bomba a mano. Dopo diventa incredibile. Secondo me Steins Gate è fico, però ha un inizio veramente difficile da sopportare. Però io l'ho visto e vi dico, abbiate pazienza perché dopo i primi 5, 6, 7 episodi a un certo punto succede una roba e lì diventa fortissimo. Dottor Stone me l'hanno consigliato ma non l'ho visto, invece in questi giorni sto guardando una vecchia cosa uscita nel 2012 Shinse Kaiori. Non mi fate spoiler, sono arrivato a metà serie, per ora fichissimo. Psycho Pass l'ho visto, così e così. Psycho Pass secondo me così e così. Passate, cosa ne pensi di Bakemonogatari e tutta la serie annessa? Non lo riesco a tollerare. Insomma mi annoia, ho visto la prima serie insomma e non sono neanche riuscito a finirla. Mi fa scendere il latte ai coglioni. Non mi fanno impazzire i momenti in cui Tizio flerta con Kaya, è una cosa che non mi interessa, ok, nelle storie. Ciucci amorosi non mi hanno mai appassionato più di tanto. Che Bakemonogatari è tutto quanto un tease sessuale tra i due. Pareri su Hunter Hunter che è molto bello se andassi avanti. Uno dei strategici shonen più belli che ci sono, che potete vedere, guardatevelo o leggetevelo. Io ho fatto entrambe le cose, molto bello, molto incostante. Ora, in generale, facendo un discorso un po' generico, così facciamo anche un po' di just chatting per l'appunto tra me e voi. Il fatto è che secondo me una bella, una bella storia, è una storia che ha un ambiente, un mood particolare. Mob Psycho 100, Mob Psycho 100 può rientrare nel canone shonen, ma è assolutamente fuori di testa. Perché Mob Psycho 100 non parla di una scuola di protagonisti, parla di un bambino autistico che ha i superpoteri. Bellissimo perché gira tutto intorno alle emozioni di Mob. A come Mob processa le emozioni del mondo. E come poverino, per queste sue turbe sociali e psicologiche, non riesce a capire bene delle cose. È bello perché parte da una premessa. Il fatto che questo ragazzino, questo bambino, vede sia gli spiriti che gli esseri umani. Ed è così potente che lui li vede allo stesso modo. Sia gli spiriti che le persone umane sullo stesso piano. Mentre comunque un esper, ovvero una persona che è in grado di collegarsi all'aldilà, deve concentrarsi comunque in qualche modo per entrare nella dimensione spirituale e vedere il fantasma salcazzo, Mob invece è talmente forte che vive praticamente su entrambi i piani in contemporanea. Lui non riesce bene a processare una serie di cose, cose come un normale essere umano, perché lui vede spiriti umani sullo stesso piano. C'è un momento in cui una ragazza viene praticamente spiata, ok? Lei pensa che sia uno spirito. Non è uno spirito, ma è un guardone. Quando si rende conto che è un maniaco sessuale, diventa incazzatissima. E Mob rimane fottutamente spiazzato. Per lui il fatto che ti spii nel tuo intimo uno spirito o un uomo è la stessa cosa. Il modo in cui Mob, questo ragazzo strano, si relaziona alle cose.